Forza Italia si sta riorganizzando anche a Firenze, ce l'avete questa nuova sede o no intanto? Stiamo, allora, Forza Italia a Firenze siamo ripartiti alla grande, stiamo facendo una serie di iniziative sul territorio, l'ultima anche giovedì dove è venuto l'assessore Bettarini, Confcom presenti, Confcommercio e Confesercenti, abbiamo discusso sul nuovo regolamento del decoro all'interno dell'area UNESCO, io spero che a breve chiuderemo anche con la sede, non è semplice. Le piace il regolamento di Palazzo Vecchio che impone ai nuovi alimentari il 70% della merce di filiera corta toscana? Guardi, io le rispondo con un'altra domanda, se domani arriva uno dei pasticceri più famosi di New York e vuole aprire una pasticceria americana dove preparano torte, brownies, chi le decide le deroghe? L'ha una commissione apposita. E su cosa noi dobbiamo batterci? Sulla qualità, noi dobbiamo far sì una battaglia sulla qualità, non sulla filiera corta che arrivi soltanto dalla Toscana, quella implicita il consumatore che poi lo sceglie, al di là che si parla tanto di Europa, si parla tanto di globalizzazione, si parla tanto, io immagino il primo ricorso questo regolamento cadrà, come il primo ricorso che faranno sul nuovo regolamento a tutela dell'Aeronesco. Io penso che noi possiamo valorizzare e tutelare il centro storico attraverso attività di promozione del territorio, attraverso alcuni vincoli che possono essere solo vincoli urbanistici e soprattutto attraverso gli incentivi. Cioè chi propone qualità deve essere premiato. I regolamenti restrittivi e le sanzioni non funzionano.